La Suprema Corte ha accolto il ricorso di una 38enne romana sola e con un figlio a carico condannata dal Tribunale e dalla Corte d'Appello di Roma per il reato di occupazione abusiva di un immobile di proprietà degli IACP. La donna era stata condannata dal Tribunale della Capitale a 600 euro di multa appena confermata dalla Corte d'Appello nel dicembre scorso. Il pronunciamento della Cassazione congela il verdetto e rimanda alla Corte di secondo grado il procedimento suggerendo ai giudici d'Appello di verificare con una più attenta e penetrante indagine giudiziaria lo stato di povertà della ricorrente. Secondo la Cassazione rientrano nel concetto di danno grave alla persona non solo la lesione della vita o dell'integrità fisica ma anche quelle situazioni che attentano alla sfera dei diritti fondamentali della persona. Il pronunciamento della Suprema Corte ha spaccato il mondo politico. Esulta la sinistra radicale. La sentenza fissa un punto fermo di grande civiltà nei diritti sociali delle persone, dichiarato il Ministro della Solidarietà Sociale Paolo Ferrero, per il quale il diritto primario all'abitazione non può ritenersi subordinato al diritto di proprietà. Le conseguenze politiche sono inevitabili. La prossima finanziaria dovrà definire le risorse per un nuovo piano casa, dice l'esponente rifondazione. Per il Ministro della Famiglia, Rosi Bindi, è stato confermato che quello alla casa è uno dei diritti fondamentali della persona. La ricetta del candidato alla leadership del Partito Democratico è chiara. Bisogna incentivare l'edilizia pubblica, far emergere il sommerso grazie alla fiscalità e aumentare la disponibilità delle abitazioni in affitto. I commenti del centrodestra sono di segno opposto. Per il vice sindaco di Milano, Riccardo Decorato, la sentenza della Cassazione tutela l'illegalità. Dello stesso parere, Salvino Caputo, presidente del gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale. A Palermo, una simile sentenza afferma, autorizzerebbe chiunque a occupare un immobile con la conseguenza che non resterebbe più una casa libera, mandando a farsi benedire il diritto alla proprietà privata. La sentenza è un'offesa, conclude il parlamentare, soprattutto per le famiglie che versano in gravi difficoltà economiche, che vanno aiutati e sostenuti, hanno sempre rispettato la legge non cedendo alla logica dell'occupazione.